Andiamo parlando di arte perché parte da Treviso la performance artistica di J. Bauer. L'artista svizzero attraverserà gli Stati Uniti e invierà nella marca le opere realizzate durante il viaggio. Sentiamo. J. Bauer è un artista viaggiatore. Partito da Zurigo e arrivato a Treviso nel weekend per mostrarsi e mostrare la sua arte allo spazio espositivo Clinica Urbana. Si è presentato così al mondo artistico cittadino, con una personalissima esposizione curata dalla galleria Spazio Bevacqua Panigai, che è solo la parte iniziale di una performance che durerà diversi mesi. Bauer è poi ripartito dalla marca per andare a scoprire gli spazi immensi degli Stati Uniti per cogliere tutto ciò che riesce a trovare dai luoghi dagli incontri e li trasmetterà attraverso le classiche cartoline che verranno esposte nelle vetrine di Clinica Urbana. Si verrà così a formare una storia puntellata da postcar patinate e irreali. Dopo mesi di viaggi, l'artista svizzero farà ritorno nella marca per esporre nelle tele e nelle opere il suo viaggio dopo mesi di nuove esperienze. Attraverso le sue opere, J. Bauer non vuole raccontare una sola storia, un diario di viaggio, ma fornisce al fruittore gli strumenti per costruire una propria e personale storia. J. invita l'osservatore a divenire interprete del suo personalissimo film, decidendo di vonte in volta il finale. Tratto caratteristico del mio lavoro è la rappresentazione e comunicazione di un messaggio emozionale. Tutti possono sentire l'emozione, non la vedi ma la senti, la percepisci nell'aria. Ciò che governa il mondo sono le emozioni, le emozioni delle persone in particolare. Questa era la nostra ultima notizia, io vi lascio al meteo, arrivederci.